È di poco la notizia che una nuova fondazione, una fondazione importante per la nostra città, per il nostro territorio, è stata creata, è stata approvata. No, non è di poco perché era il programma elettorale e quindi ha avuto l'avallo dei cittadini. Quello che è di poco è il via libera della Commissione che anticipa il Consiglio Comunale del 28 di ottobre dove formalmente, da un punto di vista strettamente tecnico e giuridico, prenderà avvio il percorso verso la costituzione della Fondazione Arezzo Comunità che sarà la terza fondazione che la Giunta Ghinelli ha messo in campo per rafforzare il Comune in molti ambiti, in questo caso in quello della coesione sociale ed educativo. Quali saranno le funzioni di questa fondazione? Tre in particolare. La prima, lo ripeto, dare servizi a chi dà servizi. Noi abbiamo sopra la testa un mare di risorse in questo momento, abbiamo una miriade di associazioni di volontariato anche molto piccole che fanno una funzione fondamentale. Noi mettiamo a disposizione delle professionalità perché la raccolta fondi, la possibilità di partecipare a bandi europei, nazionali, di realtà private possa essere sempre più facilitata per queste realtà. E l'altro aspetto è quello di una forte riflessione sui servizi. Ormai il mondo è cambiato, noi abbiamo bisogno di dare servizi ma soprattutto di riflettere sui servizi che diamo e di costruirne di innovativi. Una fondazione che non vuole sostituirsi al Comune ma vuole aiutare, essere un servizio complementare. Questo è un Comune forte che ha avuto la capacità di dotarsi di uno strumento che io cerco di raccontare così. è uno strumento che ha supporto dell'amministrazione, che è nell'interesse della città e che è di aiuto e di coesione delle associazioni.